ciao a tutti oggi torno a parlare di scambiatori parliamo di progettazioni quindi scambiatori nuovi perché se aumentiamo le perdite di carico lo scambiatore rende di più ovvero un suggerimento quando andiamo a progettare uno scambiatore di calore parliamo sia di scambiatore di calore a piastre che di scambiatore di calore a fascio tubiero qualsiasi tipo di scambiatore di calore quando andiamo ad aumentare le perdite di carico ammesse all'interno del flusso dei fluidi quindi le perdite di carico dell'acqua che circola nel mantello o dell'acqua che circola nei tubi o sui due lati di uno scambiatore a piastre o semplicemente nei tubi di una batteria di scambio alettato otteniamo un miglioramento delle prestazioni perché a parità di sezione dello scambiatore nel momento in cui aumentiamo le perdite di carico vuol dire che stiamo aumentando la portata o meglio nel momento in cui accettiamo un valore di perdite di carico superiori vuol dire che possiamo ridurre la sezione di passaggio dei fluidi e quindi aumentarne la velocità questo cosa significa accettiamo un moto maggiormente turbolento quindi un moto più turbolento all'interno dello scambiatore significa che le particelle si sbattono molto di più per così dire questo cosa significa che aumentiamo i coefficienti di scambio di conseguenza lo scambiatore rende di più la stessa cosa possiamo farla con uno scambiatore già esistente possiamo per migliorarne le prestazioni aumentare le portate l'aumento di portata coincide direi in modo abbastanza lineare con un aumento di perdite di carico e quindi con un aumento delle prestazioni dello scambiatore piccolo trucchetto buona giornata grazie